Sia le imprese commerciali che quelle artigiane abruzzesi chiudono il 2015 con una flessione del fatturato di circa l'1% rispetto al 2014. Ma, buona notizia, l'intensità dell'arretramento si è sensibilmente attenuata rispetto al passato. Lo attesta l'indagine del Cresa sull'andamento nel secondo semestre 2015 delle imprese artigiane e commerciali in Abruzzo. Nel commercio sono ancora le imprese della grande distribuzione a pagare il prezzo più elevato, anche sotto il profilo occupazionale. Mentre quelle della ristorazione sembrano mostrare una maggiore capacità di ripresa. Le edilizie e la manifattura scontano ancora gli effetti della fase ciclica negativa. Tuttavia il direttore del Cresa, Francesco Prospero Cocco, definisce il 2015 come un anno di transizione. Perché si intravedono anche nella loro negatività, che è molto attenuata rispetto a quella dei semestri precedenti, dei segnali di ripresa. E questo è legato moltissimo sicuramente alla domanda aggregata, soprattutto nella domanda per consumi. C'è una fiducia da parte delle imprese e delle famiglie a spendere. Per cui ci sono dei dati, soprattutto nel commercio, che danno delle positività. Il fatturato, abbiamo registrato nel secondo semestre in Abruzzo, cresce dello 0,2%. Erano 7 anni che stava in campo negativo e in zona negativa. Anche per il settore dell'artigianato si intravedono dei levissimi segnali. E anche, come dicevo prima, se in campo negativo, ci sono dei miglioramenti e delle attenuazioni rispetto ai semestri degli anni precedenti. E soprattutto al primo semestre del 2015. Dal canto suo, il presidente Roberto Di Vincenzo coglie l'occasione per evidenziare il compito importantissimo in termini di indagine e ricerca svolto dal Cresa, istituto che rischia di pagare le conseguenze della riforma delle Camere di Commercio, imposta a suon di tagli dal governo. Il Cresa è un'istituzione davvero importante nella regione. È il luogo di produzione dei dati, di dati certi, con una grande credibilità, in un momento in cui c'è una grande necessità di attendibilità.